C'ho sempre in testa la musica, qualcosa che poi dovrò scrivere, che poi un'idea mi sembra interessante e importante. Una musica che ti seduce, ti avvolge, ti rimane nella testa. Lui i suoni se li immaginava. Mentre parlava al telefono, scriveva l'arrangiamento. E la dobbiamo rifare, però più dolce. La tromba devi fare, la tromba, fammi il fisco. Ennio Morricone ha avuto per la terza volta la nomination. La cosa non è che mi emoziona moltissimo. Dirige il maestro Ennio Morricone. Ennio Morricone ha avuto per la terza volta la nomination. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.